In questa lezione studieremo e impareremo a risolvere le disequazioni. La differenza con il caso delle equazioni è che adesso dobbiamo stare attenti al segno della quantità per cui moltiplichiamo o dividiamo. Se il segno è negativo, è importantissimo ricordare di cambiare il verso. Ricordiamo anche che il secondo principio non è valido se si moltiplica o si divide per 0 o per un'espressione che si annulla all'interno del suo dominio. Facciamo un esempio. Consideriamo la disequazione meno 3x meno 7 minore di 2.